Il Comune di Eboli è stato ammesso al finanziamento regionale da 350.000 euro per la realizzazione di nidi e micronidi comunali. I nuovi fondi garantiranno la continuità del servizio, obiettivo che il Comune ha posto come prioritario. In più, la progettualità del Comune prevede una serie di novità, tutte a vantaggio dei bambini e delle famiglie, sia in termini di posti disponibili, sia per quanto riguarda l'orario.